Momento teoria. Il live action secondo me potrebbe aver nascosto qualche bell'indizio, il buon Oda. Il buon Oda ci ha nascosto secondo me tre indizi fondamentali che possiamo andare a elaborare come delle teorie o comunque come una conferma che lui qualcosa ha voluto fare negli anni e noi ce ne siamo accorti magari dopo o non ce ne siamo accorti. Quindi partiamo subito dal primo. Avete visto la scena in cui Luffy va a mangiare il frutto? Non è stata così nel manga. Cioè almeno a me ha dato la sensazione che Luffy senta il richiamo del frutto in quel bauletto, ok? Mi sembrava proprio lui che diceva qualcosa mi sta chiamando, qualcosa mi sta dicendo di mangiarlo, ok? E secondo me è stato quello e Oda ha voluto enfatizzare quel punto là e secondo me è fondamentale perché ci sta dicendo guardate che, guardate che il discorso della volontà è vera, il discorso della volontà del frutto esiste, esiste dal primo volume ma nel primo volume non lo capiamo, ovviamente, perché lui non sente, non percepiamo che lui sente il richiamo perché non sapevamo neanche che cosa fosse il richiamo in quel momento là. Invece adesso ci fa proprio percepire l'idea che ci sia dietro un richiamo, ok? Ed è fondamentale questa cosa qua, secondo me, ma davvero fondamentale. Ed è un punto a favore che può alimentarci una teoria, anzi più che una teoria, io la chiamerei una conferma della volontà del frutto? Ci sta, ci sta effettivamente. Cosa che poi mi ha dato da pensare e io lo metto tutto insieme anche se si è vista scaglioni è che Shanks non abbia detto ci vediamo tra dieci anni. Questa cosa che a Luffy non gli abbia detto che ci vediamo tra dieci anni mi spaventa un po'. Mi spaventa un po', però allo stesso tempo mi fa capire che in realtà Shanks crede in Luffy, dà il cappello a Luffy solo quando sente una certa frase. Sente la frase e capisce che quella frase è molto simile a quella di Roger, allora gli dà il cappello. Quindi ci fa anche pensare al fatto che probabilmente il piano di Shanks era dare il frutto a qualcun altro, a Ace, perché comunque di base do il frutto al figlio del mio capitano, che probabilmente porterà avanti la volontà del mio capitano, quindi di Roger e di suo papà, e quindi andrà lui a prendersi il One Piece. Questo non succede perché il frutto chiama Luffy, e questo è interessante, non succede perché il frutto chiama direttamente Luffy, Luffy lo mangia, Luffy dà un'interpretazione del suo sogno, dice qualcosa a Shanks che è fondamentale, e Shanks gli dà il cappello, come dire, ok, non l'ho data a quell'altra persona, ma lo posso dare a te. Poi, poi, questa piace a Ste, questa qua piace ragazzi, questa è una teoria... Allora, avete notato come è enfatizzato tutta l'attenzione su Buggy? E quell'attenzione su Buggy è sul naso, sul naso e sulle risate. Ragazzi, facciamo attenzione a questa cosa. Pensate alla scena in cui Luffy parla del naso, lui si arrabbia, lui si arrabbia un botto, Buggy si arrabbia un botto, ci fa capire come sia il suo naso vero, sia il naso vero di Buggy. Poi magari non è davvero rosso, è colorato, però magari davvero ha il nasone così, ha il nasone a patatona, no, gigante, da clown, però lui magari se l'è pitturato di rosso, ok? Però, avete notato che nelle scritte c'è scritto laug, laff, quindi come lafftail, quindi risate, in inglese? Perché sono state scritte in inglese? Perché? Perché risate? Perché il nasone? E perché lo stesso Buggy enfatizza il fatto che tutti debbano ridere? Perché quello è un enfatizzare il fatto che tutti debbano ridere delle cose che fa, ma ridono con costrizione, ridono perché lui li minaccia, ridono perché sono dei prigionieri. E questa cosa qua, dell'avere il bisogno interno di far ridere le persone, o comunque di generare risate, ma lui non sa come farlo, ha paura del suo stesso naso, cioè non è che ha paura del naso, ma ha una paura estetica, no? Perché dice, ah, mi sento ridicolo, ho visto che mi prendete in giro, allora io vi prendo in giro richiedendo le vostre risate, ma minacciandovi. Però, pensate che lui ha un risentimento. Noi adesso abbiamo scoperto perché Buggy ha risentimento verso Shanks. Non l'abbiamo scoperto da pochissimi, cioè da tantissima realtà. L'abbiamo scoperto quando nel capitolo, mi sembra, 1075, quello che abbiamo letto durante il Comic-Con praticamente, Buggy, c'è il flashback con Shanks, e Buggy dice una cosa fondamentale. Andiamoci a prendere One Piece, Shanks. E Shanks fa, no, non posso, devo fare altro. Vieni con me, e Buggy dice, col cavolo che vengo con te, io non faccio il tuo sottoposto. Ma tu adesso praticamente te ne vai e non rispetti la volontà del nostro capitano, di Roger, sei un traditore. Cioè praticamente Buggy lo vede quasi come un traditore, e quella cosa lo distrugge dentro. Quella cosa Buggy lo distrugge dentro, lo incattivisce. Perché comunque noi lo vediamo che fa lo scemo e tutto, però Buggy viene incattivito da questa cosa qua. E questo è fondamentale, perché poi lui va avanti negli anni incattivito, con l'idea però dentro di voler far ridere le persone. Perché lui dice, io sono stato tradito una volta, non voglio essere più tradito. Poi certo, lui l'ha preso come un tradimento, e Shanks in realtà se n'è andato per difendere Buggy. Perché la fuga, il non voler subito andarsi a prendere One Piece da parte di Shanks, è perché Shanks conosceva il piano, probabilmente di Roger, cosa che non conosceva Buggy. Ma perché non lo conosceva Buggy, le opzioni sono molto semplici. La prima è che non si fidavano di lui, ma secondo me è impossibile, non mi sembra una cosa logica. La seconda è che c'è un piano per Buggy. Un piano per Buggy. E il nasone, il nasone, l'Huftail, le risate, la costrizione delle risate, il clown che fa ridere, che fa paura, Joy Boy. E attenzione, non stiamo dicendo che lui sia Joy Boy, a meno, io non sto dicendo che lui sia Joy Boy, perché Joy Boy è Luffy. Joy Boy è Luffy e sempre lo sarà. Almeno, fino all'ultimo, quasi fino all'ultimo. O almeno per noi lettori. Perché poi potrebbe esserci un'altra cosa nel mondo di One Piece, che è il mondo che cosa saprà. E noi sapremo la verità, ma il mondo saprà la verità, magari, chi è la figura più propensa a essere riconosciuto come una persona che fa ridere. Un clown. Ok? Perché non potremmo immaginare che in realtà il messaggio che ci vuole lanciare Oda è molto semplice. Il messaggio che ci vuole lanciare Oda è che Buggy rappresenterà in un modo o nell'altro Joy Boy. Non che lo sia, perché qua bisogna chiarirle le cose, perché poi si fraintendono le cose, si tagliano gli spezzoni come si preferisce, perché sappiamo come va a finire. Però, è la rappresentazione di Joy Boy, ma non è Joy Boy. E quindi potrebbe essere sia un discorso di lui arriverà al One Piece, verrà riconosciuto lui come Joy Boy, perché è un clown. Un clown è Joy Boy, fa ridere, no? Buggy il clown. Quindi fa ridere questa cosa. Ma potrebbe anche essere che magari noi in un flashback vediamo il vero Joy Boy con il nasone e allora li impazzisci. Perché se noi dovessimo vedere un flashback con il nasone di Joy Boy, cioè io impazziscoli e lì davvero si collega tutto. E non è un caso, ragazzi, non è un caso che Buggy abbia sempre il culo parato. Ma voi, cioè, è vero che Oda magari si stufa e dice ragazzi è sempre stata una gag, ma può mai essere davvero una gag? Può mai essere davvero una gag, secondo voi? Cioè davvero è così fortunato che nessuno lo giustizia ad Impel Down, nonostante sia un ex Roger. Raga, è un ex Roger e non gli fanno nulla dentro Impel Down. La prima cosa che fa è un ex Roger è tagliargli la testa. E non l'hanno fatto. Vabbè, non possono, però gli metti la gamatolite e lo puoi fare. Ok? Diventa flottaro. Quando potresti catturarlo invece rendi flottaro un ex Roger. Rendi flottaro un ex Roger. Poi lo fai diventare imperatore. Gli affianchi Mioc, perché Mioc è andato da buggy. Ragazzi, Mioc è andato da buggy in qualche modo. Cioè sono tutte cose che non puoi pensare che poi lui non arrivi dove deve arrivare. E questo è davvero fondamentale. Non può essere continuamente una gag perché poi la gag a un certo punto ha bisogno di una giustificazione perché la gag la fai quando una volta lui mi diventa flottaro. Punto. Finisce lì. Finisce lì. Non puoi continuare la vita. Non la puoi continuare la vita. È vero che One Piece è un manga divertente però necessita di giustificazioni. Cioè, se tu a Luffy toglierai il ruolo al mondo non a noi lettori perché noi lo sappiamo noi lettori ma il mondo di One Piece saprà che esiste un Joy Boy ma non sa quale. E Wano non è la prova ragazzi. Wano sa che è stato Joy Boy a liberarla ma non sa che faccia abbia Luffy. Soltanto i pochi i pochi che sanno che Luffy esiste ma il popolo di Wano sa che è stato Joy Boy tra 50 anni 100 anni la gente saprà che Joy Boy ha salvato Wano. Fine. Fine. Joy Boy non ha un volto in quel caso e quindi nel mondo chiunque può pensare che possa essere Buggy perché magari spunta Buggy c'è una foto di lui all'Uptail lui che ha il One Piece in mano e qualcuno dice allora è lui Joy Boy ma in verità è lui Luffy ma noi lo sappiamo la marina lo sa il governo lo sa i pirati lo sanno ma il mondo non lo sa e questa secondo me sarà la cosa spaziale che poi magari scopriamo di pazzia che è un erede del primo Joy Boy il buon il buon Buggy ma tu diventi Joy Boy se mangi il frutto non se hai il sangue di tuo padre perché quello è importante ragazzi Luffy diventa Joy Boy quando risveglia il frutto non perché è parente di Joy Boy almeno non oggi non ci è mai stato detto quindi secondo me questo è un altro messaggio che Oda vuole lanciarci il naso e le sempre scritte di risata che richiamano la Laugh Tale ovviamente e la costrizione della risata fatta in modo anche così cattivo da parte di Buggy ma è anche cattivo ma è anche triste questa cosa qua ed è una bella contrapposizione che potrebbe averci voluto dire ne sono sicuro poi poi magari sarà una cagata però chissà la terza cosa che secondo me è stata importante è Garp che manda Miyok da Luffy questa cosa che Garp che dice a Miyok di andare a cercare Luffy a me puzza mi puzza un po' perché noi nel manga o almeno le persone che si pongono 1600 domande su One Piece si sono sempre chieste tra cui io ma che cosa ci faceva Miyok nel mare orientale dicendo di cercare delle persone forti beh era una bugia assurda era una bugia assurda vai nel mare orientale a cercare gente forte cioè perché perché stai andando a cercare di gente forte non ha letteralmente senso la cosa che ha più senso è andare nel nuovo mondo vai nel nuovo mondo ti picchi con gli imperatori sì che trovi gente forte lì vai da barba bianca vai a rompere le scatole a barba bianca vedi che quello te mena e alla fin di vita se ci pensate cerco gente forte però beh scusate quindi qualcuno deve averlo pur mandato questa cosa io ero convinto sono sincero che fosse stato Shanks che fosse stato Shanks a chiedergli il favore di andarlo a beccare a a Luffy e poi infatti noi vediamo più avanti che Shanks che Mioc porta la taglia di Luffy a Shanks non so se vi ricordate questa scena quindi io ero convinto che Shanks gli abbia detto mi fai sto favore mi vai a vedere come è messo Luffy se è partito e se ha e se ha e se ha una ciurma e se quella ciurma è affidabile mi fai sapere se lui sarà al sicuro e può proseguire il suo viaggio secondo me Mioc gli ha fatto questo favore poi adesso scopriamo che è stato Garp a a ordinarlo a Mioc allora la mia opzione è che sia stato Shanks a chiedere il favore a Garp Shanks va da Garp e dice ascolta io ho conosciuto tuo nipote so tutto è diventato pirata magari pure colpa mia che è diventato pirata io ho cercato di dargli una retta via ho cercato di fare delle cose manda qualcuno a controllare allora lui gli manda Mioc Garp secondo me questa è la tecnica e il fatto che abbia fatto questa cosa e Oda abbia raccontato questa cosa nell'election ok perché pensate a questo se tu sei così fedele all'opera non ti verrà mai in mente nella vita se non te lo dice Oda di decidere che sia stato Garp te lo deve aver detto Oda Oda gli ha detto al regista fai che Garp che manda Mioc gli ha detto Oda non può il regista di sua spontanea volontà decidere da un momento all'altro ok decido che è stato Garp no quello non puoi quello non puoi farlo però se te lo dice Oda lo puoi fare e perché Oda ha voluto dire una roba del genere perché Oda ci ha voluto far capire che Mioc non era lì per caso ma qualcuno lo ha mandato questi sono i tre punti che ci aprono a un ragionamento globale che c'è un piano ragazzi c'è un piano ben preciso dei Rogers degli ex Rogers che inizia da quando Shanks ruba il frutto la prima volta dalle navi del governo ok quello è importantissimo Shanks ruba il frutto lo porta lo porta dove deve portarlo pensava che a Fusha dove è stato per un po' di tempo trovasse Ace invece ha trovato Luffy Luffy si è sentito richiamato dal frutto mangia il frutto Shanks dice belli qua cambiamo piano perché questo si è mangiato il frutto questo parla come Roger gli do il cappello simbolo di riconoscimento perché il giorno che quello indossa il cappello di Paya tutti tutti i ex Rogers che fanno parte del piano sanno banalmente che Luffy è il prescelto che Luffy è quello che Shanks ha selezionato ok e noi ne abbiamo già parlato in altri mille video di questa cosa qua in altri mille live però se ci pensate poi va da Crocus Crocus riconosce il cappello e quindi anzi anticipiamo va Mioc Mioc testa la ciurma va da Shanks gli comunica qualcosa poi arriva vanno da Crocus Crocus li valuta non gli dà le informazioni giuste non gli dà le informazioni giuste in realtà beh ne abbiamo già parlato perché ci potrebbero essere stati dei motivi per cui non l'ha fatto poi beccano Riley perché poi beccano Riley Riley li testa Riley li testa capisce dopo aver parlato con Shanks perché Riley parla con Shanks e ragazzi Riley parla con Shanks Riley testa definitivamente Luffy vede che è la persona che davvero merita quel cappello e quel frutto e allora poi dice però signore qua sei due anni in anticipo tu non dovrei rifare questo giro quindi ti fai due anni di timeskip e non rompi le scatole vengono tutti mandati da Osso in giro per il globo lui viene allenato poi da Riley e poi riparte il suo viaggio e l'ultimo partecipante al piano sarà sicuramente Gaban che si è andato a prendere il Pony Griff di Fishman Island se l'è portato via e io lo darò alla fine questo è questo è il tutto che parte comunque dagli indizi dell'erection